Ciao a tutti, eccoci in questo nostro nuovo video e anche oggi vorremmo parlarvi di The Mask Prima di tutto vorremmo parlarvi del fatto che in questo periodo avevamo deciso di cercare di distaccarci un po' da The Mask però stiamo comunque cercando di concludere certi lavori riguardanti appunto The Mask quindi vedrete uscire vari video di The Mask e poi vedremo un po' cosa fare questo video principalmente ha lo scopo di chiedervi cos'è che non avete capito sulla prima e la seconda serie The Mask Effect o se avete qualche curiosità o cosa che volete sapere su questa serie lo scrivete nei commenti e in un prossimo video vi risponderemo per questo video è tutto perché come ho già detto abbiamo altre cose da fare su The Mask e altri lavori che stiamo cercando di concludere ci si vede alla prossima, ciao a tutti